E adesso dagli Stati Uniti torniamo in Europa, ci spostiamo in Spagna, Gigi, dove c'è una bellissima storia, proprio a Madrid. Sì, Mike, gli studenti della Scuola Italiana di Madrid hanno adottato ben 400 alberi di pino che verranno piantati in un'area che prenderà il nome appunto di Bosco Italia. Il tutto donato dalla Scuola Italiana alla Comunità di Madrid, quale contributo al miglioramento della qualità ambientale della regione. L'evento di piantumazione degli alberi, in collaborazione con l'associazione No Profit Spagnola, Reforest Project, che si occupa di riforestare aree della regione madrilena e con cui l'ambasciata italiana ha firmato recentemente un accordo, è in programma domenica 13 dicembre con il coinvolgimento ovviamente delle famiglie e degli studenti e dei professori. E noi di Patrimonio Italiano TV seguiremo l'evento con un nostro inviato.